ciao e ben ritrovati su vp anteprima in questa rubrica settimanale vi anticiperemo alcuni dei messaggi che troverete su volta pagina in onda tutti i giorni su vp canale 271 del digitale terrestre prima di iniziare vi ricordo come inserire i vostri annunci all'interno del volta pagina potete telefonare al numero 0 7 6 3 3 4 4 4 2 2 e lasciare un messaggio nella segreteria telefonica oppure inviarci un fax al numero 0 7 6 3 3 4 3 8 4 2 o se preferite potete collegarvi sul sito rt a.it ed andare nella sezione volta pagina ricordate che il modo migliore per utilizzare volta pagina e di descrivere correttamente il vostro messaggio e di lasciare un recapito per essere ricontattati vi anticipo dunque alcune delle inserzioni ricevute in redazione questa settimana affittasi appartamento ad orvia toscalo senza mobilia composto da due camere bagno soggiorno cucina balcone ampio ripostiglio 400 euro mensili se interessati chiamare il numero 327 95 07030 vendesi arredamento bar con bancone e retrobanco vetrina specchio due cappi inossidabili tre tavoli con poltroncine imbottite paretti e lampadario prezzo 10.000 euro trattabili chiamare il numero 3 6 6 4 6 5 3 4 7 8 oppure 3 3 8 1 2 4 4 2 7 6 muratore 50 n con esperienza cerca lavoro ad acqua pendente dintorni chiamare il numero 3 6 6 4 6 5 3 4 7 8 signora 44 n con attestato di assistente domiciliare e domiciliare cerca lavoro come badante a tempo pieno o pulizie e assistenza presso famiglie con persone disabili zona orvieto ed intorni chiamare il numero 327 98 89 3 2 2 oppure 348 90 45 6 3 7 vendesi aprilia 50 motore minarelli 2 tempi ottimo stato prezzo 600 chiamare il numero 347 1475 542 vendesi 4 pneumatici 165 70 13 su cerchi attacco citroen peugeot se interessati chiamare il numero 338 70 36 143 supplente iscritta dal 2007 alle graduatorie per l'insegnamento impartisce lezioni di filosofia e storia per il triennio di scuola superiore zona orvieto ed intorni massima serietà se interessati chiamare il numero 3 3 3 3 5 5 5 8 9 5 oppure martaswiff chiocciola hotmail punto it regalasi bellissimi cuccioli di piccola taglia disponibili dal 20 agosto telefonare ora i pasti al numero 0 7 6 3 6 2 4 4 6 7 con questo è tutto vi ricordo che per inserire i vostri annunci all'interno del volta pagina potete telefonare al numero 0 7 6 3 3 4 4 4 2 2 e lasciare un messaggio nella segreteria telefonica oppure inviarci un fax al numero 0 7 6 3 3 4 3 8 4 2 o se preferite potete collegarvi sul sito rtu.it ed andare nella sezione volta pagina grazie per l'attenzione arrivederci alla prossima settimana ciao ciao